e benvenuti a questo ragazzo e benvenuti in questo lunesimo video oggi siamo qui con davidardo 2008 questa è la parte 2 cerchiamo un po' di vincerla già male quel danno è fastidiosissimo io vado contro quelli muoio giustamente allora ma poi raga let me se vi piacciono questi tipi di video di Proofstar è stato un po' di potenza Scusate se non parlo tanto, tanto, ma sono abbastanza chiaramente entrato, spero che l'avete capito, niente, non c'è bisogno del prossimo partito Ok abbiamo perso come potete un po' vedere Ok riuscite a scusatemi ma mi sono dimenticato di rimettere Ok 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 Non ci credo rega quanto era camperato questo Quanto era camperato Quanto era camperato Ok 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 Siamo nella boccia da Perchè non può diventare la Scusate perchè non c'ho la voce Eh vabbè Poi c'ho Non è Non è Non è Ok Non è No 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 Bravo No No Non è No 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 Ok ragazzi, facciamo Siamo quinti Non gioco più Scappa, no, no, scappa, scappa, devi scappare Devi scappare, ma devi andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare Non ce la facciamo tanto, non ce la facciamo Andiamo via, andiamo via Andiamo via, andiamo via Vieni qua Non ci credo Non ci credo Non ci credo Che cazzo Che mongoli che siano No, no, io boh Già perdiamo anche qua Stai, io non ce la vedo, cazzo Cosa vi devo dire Io non ci credo Io non ci credo Comunque ragazzi, c'erò un video su dopo dopo il supercard Statici per favore Mi mandarò Rubbo Ma non ci credo Concentriamoci però Ok, devasto totale Ok, ragazzi Ragazzi E vabbè, c'è tutti contro di me Tutti contro di me C'è un aiuto, no, zero Tutti contro di me No, no, non va bene, non va bene Stiamo vinciando ma non va bene Non va bene, non va bene Non va bene Cosa fa? No, 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 no No, non ci credo Io non ci credo Io non ci credo Io non ci credo Io non ci credo C'è Un aiuto Dico uno 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 Non a tutti Uno e basta No, zero Manco uno Poi muoio Poi da Ho dovuto avanzare A sopravvivere Con tutte Tutte le persone Poi la fama Non per I canger Abbiamo vinto Male Male Perché io Non abbiamo fatto Una bella partita Abbiamo fatto Anche Una brutta partita Anche se abbiamo vinto Male Male Malissimo Male Male Se questa partita Vedi Ecco Boh Ok Purtroppo Sto facendo solo Perché Non metteva pronto Non so se era Floyd o meno Però Io sono andato via Allora Cerchiamo di fare Un'ultima partita Decente E non Di incazzarmi Forse Magari Magari Sarebbe Anche Il caso Ok Tutti bull Va bene Tutti bull Certo Che no 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 Ma vabbè Guarda Tutti bull Non ci credo Tutti bull No 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 Guarda Rega Tre bull Che fanno Coppia Tre bull Che fanno Coppia Mai visto No Vabbè Bravo E poi Cioè Fanno Coppia Cosa devo fare Sei Bastardi Muore Ecco Dov'è l'altro Dov'è il camperone Non è un bull Wow Oddio Vabbè Non c'era niente Non ha fatto Forse tanto danno Vabbè Non c'era niente Cosa devo fare Che no No Dov'è Cavolo Dove 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 Soltarlo Bello Vabbè How Yeah 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 e per l'occhio